Una persona degli spettacoli C'è la frusta, andiamo a vedere, è lo spettacolo L'ho capito, fai un intervallo L'ho capito L'ho capito, fai un intervallo L'ho capito, fai un intervallo L'ho capito, fai un intervallo Assuale Fai un intervallo benissimo questo è il nostro finale per tutti voi vi ringraziamo vi invitiamo ad assaggiare le nostre specialità romagnoli dalla piadina al fritto di cesenatico ma se no vi aspettiamo a cena vi aspettiamo a cena nel padiglione numero 3 che c'è il nostro ristorante romagnolo questa sera un salutone grande a tutti voi un bacione grande dalla Romagna buon proseguimento a tutti ciao